Stiamo studiando e approfondendo sia un intervento ulteriore che dovrebbe essere presentato proprio nelle prossime ore nell'ambito della legge di stabilità, quindi in Parlamento nelle prossime ore, come ha sempre detto anche il Ministro Paola, per cercare di andare incontro a chi non è stato tutelato in questo intervento, anche perché sono soggetti, soprattutto gli obbligazionisti subordinati che anche in altre esperienze straniere non hanno avuto una forma di tutela, diciamo così, anche in Germania. Stiamo valutando degli interventi che possano in qualche modo ridurre, attenuare ovviamente il peso della situazione che si è venuta a creare per quei soggetti, perché capiamo benissimo anche la difficoltà che stiamo vivendo a livello personale. Ci sono varie ipotesi che stiamo studiando, interventi appunto in carattere di solidarietà, anche perché hanno già in qualche caso subito un'approvazione all'ambito pezzo, sono strade già un po' variate e quindi capire quanto intervenire a livello pubblico, quanto eventualmente trovare delle soluzioni alternative sempre però per venire incontro a quelle categorie di risparmiatori.